L'ingeggio dell'organo della Chiesa Madre di Favara è un triste segno per la comunità ecclesiale di Favara ma per tutta la cittadinanza. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito il peggio. Naturalmente la Chiesa non potrà essere riaperta al culto subito, bisognerà verificare alcuni elementi e poi preparare il tutto per renderla nuovamente agibile ai fedeli. È un dolore per tutta la diocesi, non solo per la comunità ecclesiale di Favara. Una Chiesa che in madre lo è sia quando celebra i sacramenti ma anche con l'espressione di quelle strutture che sono il segno, il simbolo della comunità. La Chiesa Madre di Favara risplende con il suo faro, con la sua cupola su tutta la città. Ci auguriamo che i danni siano pochi, probabilmente ci sono, e nel più breve tempo possibile riaprire nuovamente la Chiesa al culto. Grazie a tutti.